Amici del Bardo, venerdì 9 e sabato 10 settembre sarò ospite di Pescara Comics & Games, una grande fiera dedicata al mondo nerd, guardate che immagini, che è arrivata alla nona edizione e che avrà luogo al Paladin Martin. Non mancate perché sarà una figata pazzesca, tra l'altro i biglietti acquistabili anche su internet costano davvero poco, io qua sto facendo una simulazione d'acquisto, 7 euro, 8 se li comprate alle casse, 7 euro al giorno, ma l'offerta li vale tutti, credetemi li vale tutti. E se venite per incontrarmi, ecco nel dettaglio quello che farò. Iniziamo da venerdì, venerdì avrete due occasioni per interagire con me e sarà facilissimo farlo perché sarò nella Game Zone dalle 10.30 alle 13, poi mi riposo un attimo e torno dalle 15.30 alle 18.30. Sarò lì per insegnarvi a giocare a Magic, non dovete portare niente se non il vostro entusiasmo, le carte ce le ho io, le regole le conosco, ci sediamo, vi insegno e nel mentre parliamo di WWE e di wrestling. Non è pazzesco? Se non vi va di giocare a Magic, folli, pazzi, vi ammonisco, però magari siete di fretta, insomma ci sono tante cose da fare in fiera, comunque potete fermarvi per un saluto, per una domanda, una foto, un autografo se vi va, quindi insomma passate a trovarmi. Poi se fate l'esperienza completa, magari per voi c'è qualcosa di speciale, chi lo sa? Quindi mi raccomando, venerdì giornata ideale per incontrarmi, quella più semplice tra le due perché sarò a disposizione per tantissimo tempo. Ma sarò in fiera anche sabato, sabato sarò intervistato sullo stage 2 alle 16, prenderò parte al The Man Under The Hood Live Talks. Non so se sarà possibile anche per il pubblico fare domande, è probabile, comunque sarà un modo per parlare di wrestling, chiaramente, ma chissà, magari anche delle mie altre passioni nerd. E guardate che ospiti che ci sono, c'è Pietro Ubaldi, uno dei doppiatori più straordinari che ci sono in Italia, se non sapete chi è cercatelo su Wikipedia e guardate quanti personaggi della nostra infanzia hanno avuto la sua voce. C'è Mr. Marra, la sera c'è Cristina D'Avena che canta, tra l'altro Cristina canta proprio sabato alle 21, alle 21. E allora come aperitivo, anche se all'interno della fiera saranno luoghi diversi, beh come aperitivo io dalle 19 vi propongo il Cosplay Slam Wrestling Ultimate Challenge. Ci saranno Fabio Ferrari, Miss Monica, che sono un po' i motori di questo evento, insieme a tanti wrestler italiani che si daranno battaglia su un ring, un ring vero. È uno show di wrestling in piena regola, ma c'è una differenza rispetto a quelli soliti, perché i gesti tecnici saranno ovviamente quelli che conosciamo, ma i combattenti saranno vestiti da eroi dei fumetti, delle serie tv, dei film iconici e da personaggi della cultura nerd. Potremmo avere, adesso non lo so, ma Goku, Jack Sparrow, potremmo avere Saitama, potrebbe esserci Rufy o Rubber per chi segue One Piece in italiano, potrebbe esserci Naruto, potrebbe esserci Patriota, potrebbe esserci, che ne so, qualcuno della terra di mezzo, potrebbe esserci di tutto, Peter Griffin, Homer Simpson, sarà una cosa stupefacente e a sorpresa. E anche questo è tutto compreso nel prezzo del biglietto giornaliero, ma potete fare anche gli abbonamenti, eh, per due o più giorni, quindi pensateci, perché, ripeto, un programma così, e non lo dico perché sono presente, ma un programma così, con un accesso così basso, che vi permette di fare talmente tante cose, beh, raramente io l'ho visto. Quindi, quindi, ora lo sapete, nodo al fazzoletto, nodo alla cravatta, ma soprattutto piedi in movimento, ci vediamo al Palan Dean Martin, a Pescara Comics & Games, venerdì 9 e sabato 10. Se abitate nei paraggi o ad una distanza accessibile, non esserci è davvero un peccato.